A Ponte Lambro ogni forte temporale per qualche ora trasforma il quartiere in un riflesso di acqua e caos, strade allagate, macchine sommerse e circolazione completamente bloccata, ma come sempre una volta che la pioggia smette e l'acqua si ritira tutto torna come prima, le strade si asciugano, le pozzanghere scompaiono e la vita sembra riprendere il suo ritmo, eppure non tutto scorre via così facilmente, quando l'acqua se ne va restano i veri problemi, i negozi chiusi, i servizi che mancano e diventano sempre meno, la criminalità che aumenta e l'isolamento degli anziani e dei più fragili. Il quartiere è dimenticato, appunto il problema dello spaccio, il problema della mancanza delle istituzioni comunali, le poste che probabilmente chiuderanno a fine anno, non sono collegati al progetto delle Olimpiadi del 1026, è tutto un quartiere dimenticato, tra l'altro da poco è arrivata la disdetta da parte di EMM, quindi i comuni di Milano, al medico di base, quindi non gli rinnovano più il contratto, quindi se il medico di base lascerà il quartiere, la gente dove va? Qua è un quartiere popolare, questo è un caso popolare, pieno di persone fragili, pieno di persone anziane, dove vanno? Con la chiusura dei servizi essenziali il rischio è che il quartiere si trasformi in un dormitorio in cui anche aumenta il rischio di criminalità per via dei sempre più numerosi spazi poco frequentati o abbandonati. E' come un buco nero ormai Ponte Lambro, sta implodendo su se stesso, a mano a mano che i servizi vengono a mancare anche il quartiere diventa e diventerà sempre più un quartiere dormitorio dove farà sempre più piede, avrà sempre più piede e voce la malavita e questo sta accadendo così. Allora, si paventa che la posta, l'unico baluardo di civiltà in un quartiere di 6.000 abitanti, abitato soprattutto da gente molto molto anziana, da persone non appartenenti a, chiamiamole estracomunitari, che quindi hanno bisogno di tutti i servizi di una posta, dicono la chiudiamo. Un altro problema riguarda il mercato comunale, sempre più vuoto e senza esercenti che partecipano ai bandi di assegnazione e non va meglio per le attività commerciali, facendo un giro tra le vie del quartiere, la maggior parte dei negozi ha la saracinesca abbassata, senza alcuna progettualità infatti, nessuno ha voglia di investire sul quartiere. Sì, stiamo rendendo il quartiere, mi lascio. Lei è nato qua? Beh, 70 anni che abito. E vede la differenza? Molto, dottore, noi ci conosciamo, possiamo ancora parlare nel dialetto. Gli abitanti del quartiere denunciano così la mancanza di interventi per migliorare i servizi e affrontare il disagio sociale, mentre continuano ad emergere nuove problematiche, come le voci sulla presenza anche di una moschea abusiva in via degli umiliati.